Giulio Ciccone, un ottavo in sesto posto qui al Tour of the Alps nelle prime due tappe, possiamo dire che la condizione c'è soprattutto in vista del Giro d'Italia? Sì, diciamo che è stato un buon debutto qui in questa durissima gara e siamo venuti qui per far bene e diciamo affinare un po' la condizione per il Giro e stiamo trovando una buona gamba, speriamo adesso di tenere duro nelle prossime tappe e far meglio, cercare di essere davanti e di essere protagonisti. Quest'anno al Giro d'Italia punterai a una vittoria di tappa magari tentando di ripetere la tua impresa al Giro del 2016 oppure avrai un occhio di riguardo per la classifica generale? Far classifica al Giro penso che sia un qualcosa ancora di troppo lontano, però sicuramente se la condizione è buona si può tentare di fare magari un risultato, puntare qualche tappa e poi vedremo strada facendo. Dopo il Giro hai già qualche obiettivo nel Mirino? Ma no, per adesso pensiamo un po' un passo alla volta e l'obiettivo principale era arrivare al meglio a queste due gare fino al Giro e poi dopo il Giro sicuramente staccherò un po' e pensiamo magari alle gare di fine stagione. Grazie. Grazie.